Allora, il mio personaggio è quello di Hans Gross, che è un giudice, un personaggio abbastanza positivo nonostante abbia una vita non lunghissima in scena e suo malgrado si trova a vivere il periodo del nazismo, quindi in realtà inizialmente sembra freddo e distante rispetto al protagonista ma poi invece in un secondo momento si rivela disposto a dichiarare l'innocenza di Kaufman. Il mio personaggio è quello di Eva Grese, è la governante del signor Kaufman e avrà un ruolo cruciale nello sviluppo della vicenda incarna quello che potremmo definire la stupidità del male. Il mio personaggio Herbert è un personaggio invece che nel giro di una scena molto breve fa quello che hanno fatto milioni di tedeschi quando Hitler ha cominciato a parlare del nazionalsocialismo, che cioè si convince che un ebreo sia da condannare anche se non ci sono motivazioni per farlo. Io sono il giudice Rottenberger, un giudice nazista che riesce attraverso un artificio, e quindi non da giudice ma da carnefice a condannare Kaufman alla pena di morte. Vi aspettiamo al Teatro Sociale a partire dal 17 ottobre.